Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia Gesù ha detto il nome che disse loro, a me è salitato oggi con te, un cielo che è sulla terra, andate nel mondo e parte dei scemi, gli orivi e i compoi, Poi, passeggiandoli le nostre distanze del figlio e del figlio e del figlio di Natale. Insignano loro a osservare tutto ciò che io ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Allora, guardate il signore. Come un dei giorni che vedo c'è l'applicazione, oggi nel mio figlio e il figlio di Natale ci presenta la Santissima Felicia. Non è questa l'occasione per poter approfondire come si realizza questo discorso del mio cuore di trioni. Uno nella natura, tre io nelle persone. Sono discorsi che richiedono tutto un cammino. Ma è un'occasione per poter dire che ci dà la qualunità di sapere, sollecitare, richiamare il Concello di Natale. Chi è lui, tutti ci siamo noi. Quale c'è l'occasione per poter dire che c'è l'occasione per poter dire che c'è l'occasione. dalpratificazione per poter dire che c'è l'occasione per poter dire che c'è l'occasione per poter dire che c'è l'occasione per poter dire che con andare per sport. Begge il popolo, regnava l'individuolismo, non chiamavano, non chiamavano, l'individuolismo, ogni popolo aveva non il suo rio, ma la sua stiera di lei, di dolciità, moltissime, ogni popolo. In mezzo al luogo del governo viene fuori un pesante, il Dio è il primo, Dio uno, e non allungiamo con tanti dei quali sono il nuovo, e non allungiamo con tanti dei quali sono i popoli e le azioni, ma è un Dio un nuovo, al di sopra, un Dio un cammino di fede e il sito di popolo. Israele infatti adora il Dio un nuovo, che vuoi attraverso la presenza di Gesù, la discesa dello Spirito Santo, il cammino della Sessia Spirito, assistito dallo Spirito Santo, si viene a prevermiare, luminare Dio, ma patreniare Dio, Dio Padre, Dio Filho, Dio Spirito Santo. E il Dio un nuovo, che vuoi attraverso la presenza di Gesù, ma patreniare Dio un Dio un Dio, ma patreniare Dio un Dio, ma patreniare Dio un Dio. Esiste un libro, con le caratteristiche del libro, un libro che solo è scritto dalla valore espressione. Un libro è la presenza di persone che nella loro vita interna, e nella loro vita interna, si conservano un cammino unitario. Per cui, ciò che faremo la madre tra il figlio e il figlio, ciò che opera il figlio, lo fa in comunione col padre e il figlio. E con la vita di Dio e con la eternità. Nella liturgia, noi, senza rendersi conto, ci siamo persi. Già, quando ci facciamo sempre l'allocere, perché noi siamo sempre attenti a non fare il segno dell'allocere, più che il scattatore di sanzare o il vostro. Publtischerà governante da tutta l'allocere. Quindi la vita di Dio e di Dio e di Dio e di Dio e di Dio InteriorES è il santo e il profe santo, io prego nel Padre, del Figlio, del Signore Santo. E è il figlio santo e santo che mi sono male con tanta fede. Nella preghiera, la preghiera più breve e più complica. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito. Noi diciamo gloria al Padre che nasce. Ecco, nella mitologia, noi riusciamo tutti bene. Io ti battevo, non diciamo nel nome di Dio. Io ti battevo nel nome del Padre, del Figlio e del tuo Spirito. Io ti battevo, e ogni volta che noi siamo ammata del Sagra, e della nostra persona, io ti battevo nel nome del Padre, del Figlio e del tuo Spirito Santo. Ecco allora, no. come la mitologia ci mette in questo progetto il Dio Uno, ma che nella sua manifestazione è Padre e Figlio e Spirito Santo. Non andiamo a poter perdere le distensioni di Dio. A noi vi invigliano i grandi, i grandi giorni del Dio Evole e di Dio. di Dio. Questa è la fede dei cristiani. E un tanto male, chi non ha le due e tre quattro e stamattina diceva, se uno non accetta la trinità, non si può dire che si è. è un altro cammino per fare, ma non il cammino per essere. Importante è anche fissare e sapere qual è il rapporto existente per la Trinità, e il Dio e di Dio. Ho voluto riportare, se ne vedo, un bel giorno di questa mattina, di questa mattina della Trinità della Trinità della Trinità. Il Padre è amore. Il Dio è amore, il Padre è amore. Il Dio è grazia. pensiamo alla grafica della santificazione indecidio che con la sua boca e con il nome normale con la sua vita retiene il cuore e chiede a la crenza del Dio nella nostra vita lo spiega il cuore e il comunione ecco il ricordo della Santissima Crenza con la Chiesa con l'umanità con l'unico di noi il madre è amore ma quando diciamo il madre è amore non vogliamo dire che in questa dinamica dell'amore si ha sempre lo spiegelato lo spiegelato è il figlio solo presente perché è il figlio e il figlio è il figlio lo spiegelato è il figlio è il figlio e il figlio di insagrare come un'opera che ha avvicato a lo Spirito Santo, ma non mi chiede, che Gesù dice andate, io sono voi, dimandolo, lo Spirito e io sono azione che vividerà nell'annuncio, che vividerà nella conferrazione degli uomini e della vita. Non so se l'ho confuso di tutti i vostri figli a questa vita, però viene in volontà di sottolineare il mio rapporto, che deve essere tra noi e la Trinità, che è il Dio Padre che siamo, Spirito e Spirito Santo che ci amiamo. La vita delle vie cammina su questi tre milani, milani che sono sempre un uomo milano. In fondo camminare su questi tre milani non ne ha forse come camminare in incontro di tutti. E avere la certezza che per il Sua presenza è una presenza reale nell'Italia. Lo diamo, lo diamo, lo diamo, lo diamo, la Trinità estiva e la campazia del nostro bello cristiana. Grazie.